Era tra le possibilità che avevano avanzato nelle scorse settimane. Oggi pomeriggio l'hanno messa in pratica i lavoratori della Conforama di Bagnari Arsa hanno proclamato uno shopper a sorpresa contro la chiusura ricevuta dall'azienda la proposta di misura alternativa alla mobilità immediata per 33 lavoratori dello stabilimento considerati esuberi. Attorno alle 12 c'è stata una partecipata assemblea straordinaria dei lavoratori convocata dai sindacalisti Francesco Buonopane della Filmcams CGL e Andrea Sappa della Wiltux Will durante la quale c'è stato l'aggiornamento della situazione dopo il tavolo di crisi convocato giovedì in regione assieme all'assessore regionale Angela Brandi. A seguire è stato proclamato lo shopper che sarà riproposto anche giovedì prossimo in concomitanza con la convocazione a Roma delle parti davanti al Ministero del Lavoro dove sarà affrontata la situazione complessiva di Conforama che coinvolge altri sei negozi in Italia. L'adesione allo shopper odiano è stata buona detta dai sindacati più della metà dei turnisti è aderito alla protesta una quarantina alle persone che hanno presidiato gli ingressi del magazzino hanno portato la loro solidarietà anche il sindaco di Palmanova Martines e altri amministratori locali il deposito di Cervignano è rimasto chiuso l'azienda ha dovuto richiamare personale dalle ferie per coprire i buchi molta solidarietà anche dai clienti il sabato di fatti è la giornata di punta alcuni dei quali sono tornati indietro oppure hanno solo compiuto un giro senza acquistare ora l'auspicio dei lavoratori del sindacato è che al Ministero a Roma giovedì facciano cambiare idea al gruppo attraverso l'utilizzo di opportune forme di ammortizzatori sociali che consentano all'azienda di gestire le eccedenze come avvenuto negli ultimi 12 mesi con la cassa integrazione guadagni straordinaria in scadenza a fine mese Grazie! Grazie!